Bimbi, non portate le mamme a vedere animali imprigionati. Il vostro biglietto è la loro sofferenza. Perché non vi mettete voi a quattro zampe venendo frustati se è così divertente? Sono questi alcuni dei messaggi che sabato sono stati sventolati su cartelloni e intonati a suon di slogan e cori. Due i riceventi dei messaggi. Il circo Roland Orfei che venerdì scorso è tornato a Pesaro riportando dopo otto anni di assenza uno spettacolo con animali esotici che ha sollevato il dissenso per uno show reputato anacronistico, crudele e irriguardoso della natura. Messaggio recapitato altrettanto a chi alimenta questo business continuando ad assistere a questo genere di spettacoli. Mittenti del messaggio le associazioni animaliste OIPA e EMPA che sabato hanno apparecchiato un presidio di dissenso pacifico davanti al tendone del circo che si tratterrà in zona torraccia fino al 25 settembre. Siamo qui perché è semplicemente anacronistico ed incredibile che nel 2022 ancora esista il circo con animali. Sono venuti a Pesaro dei circhi meravigliosi, il grito, abbiamo avuto il circo panico, esistono delle alternative credibili e meravigliose, fruibili, senza violenza e senza bisogno di riproporre uno spettacolo che è patetico perché per nessuno può essere veramente bello vedere un leone che salta nel cerchio di fuoco o l'elefante che salta su due zampe. Allora siamo arrivati ad un livello di consapevolezza tale per cui veramente tutti sappiamo che questo non fa ridere e sappiamo anche, abbiamo anche un livello di coscienza tale. Per cui sappiamo cos'è l'empatia, è questo che va insegnato ai bambini, non a ridere di una creatura che sotto la violenza di una frusta o di qualsiasi altro metodo possa essere utilizzato, privato della possibilità di vivere nel suo habitat naturale, stia qui al troni un elefante, una tigre, una zebra, una foca, di qualunque creatura stiamo parlando non deve stare qua. Lo sappiamo tutti, non fa ridere, non ci piace, non lo vogliamo. Io faccio un appello a tutti i genitori che pensano che portare i figli al circo sia sinonimo di divertimento per loro. In realtà lo può essere perché un bambino vedere gli animali non ha, non pensa che l'animale dietro possa essere tenuto male, no? Lui vede un animale e dice che bello. Però un genitore adulto deve capire che se vuole far divertire i figli e vuole fargli vedere gli animali in realtà, li porta in posti dove vedono gli animali liberi, facendo una passeggiata nel bosco, portandoli in posti dove vedono effettivamente la realtà delle cose, dove vedono vivere gli animali liberi, felici, senza essere addomesticati a fare cose innaturali. E quindi io vi chiedo questo a tutti i genitori, dovete pensare che portarli al circo non è educativo per loro, ma è più educativo portarli in mezzo alla natura e sperare di vedere questi animali liberi e felici. Io sono qui oggi per un duplice motivo. Il primo è a sostegno di tutti coloro che hanno organizzato questa manifestazione, quindi a partire dall'OIPA, dall'EMPA, tutte le guardie zoofile che ogni giorno lottano per il benessere degli animali. Sono qui oggi con voce ferma, pacifica ovviamente ed equilibrata a dire basta al circo con gli animali. Alle soglie del 2023 sembrava una cosa scontata, ma ci rendiamo conto che ad oggi ancora non è così. E la seconda motivazione che mi porta qui ad essere oggi è la tutela dei lavoratori del circo, perché il circo è composto non solo da animali, ma da persone che ci lavorano, da artisti, da atleti che lavorano all'interno di questa struttura. Grazie ad una legge delega all'interno della legge spettacolo di quest'anno, approvata all'unanimità alla Camera a luglio 2022, il governo, il nuovo, quello che verrà adesso, perché ormai siamo in fase di chiusura della vecchia legislazione, avrà nove mesi di tempo per far sì che questa legge di vieto di utilizzo degli animali nel circo diventi effettiva a tutti gli effetti. Bene, noi siamo qui a chiedere che diventi subito effettiva e il sostegno che dà il governo ai circhi diventi sostegno alla riconversione dell'attività del circo stesso. Quindi il circo ad oggi avrà due anni di tempo per riconvertire le proprie attività, per concentrarsi su quella che è l'arte dello spettacolo, l'arte ludica dello spettacolo e l'arte circense che vanno valorizzate e promosse senza l'utilizzo di animali. Siamo qui per questo, in maniera del tutto pacifica e veramente equilibrata, per dire basta animali, tuteliamo il mondo del lavoro di circense. Il Comune di Pesaro ha esternato nei giorni scorsi ai microfoni di Rossini TV il dissenso per la manifestazione, ma anche l'aver mani amministrativamente legate ad impedirlo. Dal presidio si invita però a un atto di coraggio ulteriore. Anni fa c'era stata una sensibilizzazione politica in merito alla possibilità di varare un'ordinanza anti-circhi, perché non si può proibire ad un circo di venire in città, ma ci possono essere delle ordinanze anti-circhi. In assenza di queste, chiaramente un circo è libero di venire. Perché il Comune di Pesaro, il Consiglio Comunale, non approva un'ordinanza come questa? In altre città è possibile, è stato possibile, perché qui no. Capisco, non è un'urgenza, non è una priorità, si dice sempre così, però non è neanche una cosa che probabilmente richiederebbe tanto tempo. Sarebbe un atto di civiltà di cui potremmo andare i fiori. Pesaro, città della cultura, facciamolo vedere. In una città come Pesaro, capitale della cultura 2024, mi starei aspettata un po' di coraggio in più, almeno nell'adottare dei regolamenti interni al Comune stesso, che impedissero, dopo otto anni, il ritorno in gran pompa magna, con tanti manifesti, poi appesi ovunque, anche dove non si poteva appenderli, in pieno centro storico, piuttosto che sulle vetrine, piuttosto che sui lampioni, cose che magari andrebbero un pochino più regolamentate, in maniera anche un pochettino più forte. Quindi mi sarei aspettata una presa di posizione un pochino più coraggiosa, capendo però come l'amministrazione abbia più o meno mani legate sotto questo profilo e mi auguro che in futuro si possa essere più unione di intenti, di associazioni di categoria, piuttosto che associazioni animaliste e di tutela del mondo del lavoro, anche i sindacati, per riuscire a dare un'unica voce senza confusione, senza possibilità di essere in qualche maniera smentiti, un'unica voce che dica quello che abbiamo detto noi fino adesso, quindi basta animali, sì al lavoro nell'arte circense.